Ciao! Allora cominciamo, questo è il mio primo mai più con di febbraio ed è della Deborah Bioethics Corpo Nuovo Light Mousse frizzante anticellulite azione drenante. E' un bussolotto che poi si spruzza e dovrebbe uscire questa mousse. Allora, non sto a questionare su riduzione della cellulite, non riduzione della cellulite, secondo me è troppo poco incisivo, mettiamola così. Io non ho problemissimi, nel senso che non devo vergognarmi a mettermi in costume, ho un po' di pelle d'arancia, un po' di buccia d'arancia, un pochino di cellulite, però insomma, vabbè. L'avevo presa per curiosità, io avevo usato per parecchio tempo i prodotti della linea Guam e in particolare vi consiglio il fango crema caldo, quello funziona benissimo, applicato tutte le sere con costanza e con pazienza, il barattolo è bello grosso, scalda tantissimo e l'azione è effettiva. Poi avevo avuto problemi che mi erano venute in rilievo un po' di venette, un po' di capillari per il caldo e allora mia suocera, che tratta quei prodotti Guam, mi aveva consigliato il fango crema freddo, però vi devo dire la verità che quello, secondo me, su di me funzionava meno. Questo prodotto qui, a parte che ce n'è troppo poco perché funzioni, nel senso che io alla fine, quando ho cominciato a usarlo abbastanza, mi sarà durato sia no un mesetto a usarlo neanche tutti i giorni perché non sempre mi ricordavo di metterlo. E quindi potete ben immaginare che non è sufficiente per una cura effettiva del problema della cellulite, ma la cosa più brutta di questo prodotto è l'odore, perché sa di lacca. E per esempio quando aprite il barattolo della lacca c'è quel odore... ah, ha quell'odore lì e non è proprio una mousse, è più un gel frizzantino, neanche un gel, una spuma frizzantina che la si applica direttamente sulla gamba e poi la si massaggia. Non mi sono trovata tanto bene, vi ripeto, non tanto per funziona o non funziona perché ce n'è troppo poco di prodotto in un barattolino perché si vedano effettivamente i risultati, secondo me, ma è proprio l'odore che non... che mi ha convinto che non volevo continuare anche a comprare altri barattoli. Quindi questo è il mio primo My Pucon, Deborah Bioethics, Corpo Nuovo Light. Secondo prodotto My Pucon è questa crema di Just, la camomilla, la crema a mani ha la camomilla. Questo prodottino, guardate che bravo, ho tenuto anche la scatola, l'ho finito, sono riuscita a terminare il prodotto. Erano 30 ml di prodotto, io in genere queste creme a mani qua le metto la sera prima di andare a letto. Questa crema, a parte il profumo, la profumazione che non era particolarmente gradevole, Dio, non è neanche fastidiosa, è quasi abbastanza neutra, mettiamola così, quindi niente di eccessivo. Un po' unta, appena messa, quindi dovevo lasciarla asciugare prima di toccare qualche altra cosa, anche se la mettevo prima di andare a letto. Io poi ho tutti i miei traffici, quindi me la metto, poi magari bevo, dal comodino c'è il bicchiere bevo, mi rimaneva tutta l'impronta sul bicchiere. Ma mi seccava le mani, cioè mi era venuta fuori, non so, forse si vede ancora, no, non lo vedete, qua sul dito. Mi era venuta fuori della pelle secca, tipo quasi un calletti, però insomma della pelle più secca. Quindi non mi sono trovata bene, è un prodotto che non riacquisterei, anche se può essere che dipenda dalla mia pelle, il fatto che la reazione fosse il contrario di quello che mi aspettavo e quindi che me la seccasse. E quindi eccola qui, la crema mani camomilla della Just, non recomprerò. Altra, se vi state chiedendo che smaltino ho addosso, è questo qua, il 359 di Kiko, uno dei miei ultimi acquisti. Vi dirò che mi piace quasi di più come vi rende in camera che non dal vivo, perché lo cercavo al bicocca, ma non è ancora al bicocca in realtà, è ancora troppo forte, lo cercavo ancora più tenue. Comunque vabbè, non mi dispiace come effetto, mi piace abbastanza. Poi, altro mai più con, questo mi piace qui, altro mai più con. Mai più con, io mi spiace veramente perché ci ho provato, ma continuo a bocciare dei prodotti Avon. Non ce la posso fare. Allora, questo balsamo per cuticole, Nail Experts di Avon, che si presenta... In questo modo, vedete ci sono le unghiate dentro perché ho cercato di usarlo, ha un pao di 12 mesi e sono 14 grammi. Ora, qual è il problema di questa cosa che mi piaceva tantissimo come idea? Perché l'idea era di prenderlo col bitino e di spalmarlo sulle cuticole. Ha anche un buon profumo di rosa, di buono, mi piaceva come profumo. Il problema è che mi secca le cuticole. Io non lo so, poi questo è l'effetto che ha su di me. Ho chiesto alla mia amica che si occupa delle mie unghie, come mai? Perché sa che sono all'eterna ricerca di un balsamo per cuticole. E mi ha detto che l'unica ragione, l'unica motivazione potrebbe essere per la presenza di alcol all'interno. Io purtroppo, scioccamente, ho buttato via la scatoletta, la confezione di carta con la lista degli ingredienti. E qui dietro c'è soltanto scritto balsamo per cuticole in 25.000 lingue. E mi ha detto che se c'è dell'alcol all'interno potrebbe essere quello che ti crea la reazione opposta. Però non lo so se c'è l'alcol all'interno oppure no. Io so che con questo prodotto non mi sono trovata bene perché mi dava proprio l'effetto contrario di quello che mi aspettavo. E quindi mi trovavo proprio le cuticole secchissime. E quindi... L'ennesimo balsamo per cuticole bocciato. Yeah! Poi, i due prodotti make-up che non mi sono piaciuti. A uno ho dato veramente tante possibilità perché mi piaceva tantissimo. Ed è questo eyeliner waterproof di Kiko, che è il numero 03. Che è questo bellissimo verde acqua metallizzato. Che è veramente bellissimo. Allora io non ve lo faccio vedere sulla mano perché il motivo per cui non mi piace è che questo qua, oltre a essere particolarmente colloso... Non so se si vede. Sì che forse la vedete la striscietta che va... E quindi è molto difficile da stendere. Ma macchia! Cioè io se uso questo, la sera, il giorno dopo devo già ipotizzare di fare un trucco su questi colori qua. Perché anche se strucco col bifasico, anche se strofino, faccio di tutto, l'ombra di questo azzurrino mi rimane sulla palpebra. E quindi macchia tantissimo. E non essendo tra l'altro un colore adatto proprio a tutti i trucchi di tutti i giorni. Tipo se oggi avessi una strisciata di questo non potrei andare in ufficio per esempio. E non va bene, non mi piace che macchi. Poi non mi piace che macchi perché mi rimane sempre il dubbio di che cosa ci hanno messo dentro che mi macchia la palpebra. Ecco, mettiamola così. Quindi, pur piacendomi tantissimo il colore, non vi consiglio di comprarlo perché è difficile da stendere e macchia. Ultimo prodotto che non mi è piaciuto, ma questo poverino non è colpa mia perché il suo lavoro lo fa. Forse sono io che non ero pronta all'acquisto. E' questo, non si vede nulla perché è tutto, eccolo qua. L'essence crystallized, l'highlightning, l'illuminante. Che è carinissimo perché ha questa pompettina, si preme, eccolo qui ne ho messo una quintalata, ok? E poi si picchietta e si espande. Qual è il problema? Ecco, il problema voi lo vedete già qui sulla mia mano. Io ne ho messo tantissimo e va lavorato molto di più, però... No, non lo vedete. È molto... Ha una base bianca molto preponderante, quindi io ho già la pelle che tende un pochino a lucidarsi. E ho la pelle molto chiara, quindi io lavoro molto sul contouring, sul blush, per dare un po' di vita. E quando metto questo qui, perché in genere l'illuminante penso di doverlo posizionare qui, e mi rimane molto lucido, perché probabilmente è il suo scopo che rimanga lucido, ma soprattutto molto bianco, molto chiaro, e quindi mi va... Non lo so, non me lo vedo io addosso, però vi ripeto, questo il suo lavoro lo fa bene, cioè illumina. Illumina, è lucido. Probabilmente sono io che ho sbagliato la colorazione, nel senso che è troppo chiaro, e praticamente è come se facessi un passo indietro rispetto a tutta la fatica che ho fatto a dare color alla faccia. Però, insomma, quindi questo in realtà non è che ve lo sconsiglio, è un prodotto che devo stare attenta quando lo uso, a non esagerare, a non usarne troppo. Quindi, poverino, non è proprio bocciato, è un prodotto che faccio fatica ad usare, mettiamola così. Quindi, dateci un occhio quando lo prendete, che magari vi accorgete subito se è troppo chiaro oppure no. Basta! Sì, ci ho messo dieci minuti lo stesso. Vabbè! Buona giornata! Un bacione! Buona giornata!